questa pittura la prima la comincia a odiare non mi scorre il pennello allora questa tela è molto molto ma molto secca e si beve la pittura adesso vedremo che cosa succede che poi a me non è che dispiace la tela molto secca ok qui l'abbiamo fatta qui c'è ombra qui l'ombra qui c'è ombra qui c'è ombra pazza quanto beve sta tela questa tela è molto assorbente probabilmente la prossima volta parto con un'oliatura già data grazie questo fa tornare troppo corto Grazie a tutti. Grazie a tutti. La pittura, vabbè che è difficile sempre la pittura. Grazie a tutti. Ok. 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 Ok.